... Doveva essere Matteo Renzi il gregario di lusso di Bersani per l'ultima corsa verso Palazzo Chigi, l'asso nella manica per rosicchiare più voti possibili al centro. Invece in Piazza Duomo a Milano, a meno cinque giorni dalla chiusura della campagna elettorale, la sorpresa dello smacchiatore di Jaguari è Romano Prodi, Mister Ulivo, fuori da un palco da quattro anni, l'unico che da sinistra le abbia suonate a Berlusconi in 19 anni di elezioni. Parla bene proprio del sindaco di Firenze e predica l'unità che mancò al suo governo nel 2008. Stavolta resteremo insieme. Bersani ci guiderà tra una settimana alla vittoria. Ha fatto una campagna bella, semplice, normale, senza urlare. Certo, non sempre tutti lo capiscono. I miei amici africani mi chiedono perché Bersani ce l'abbia tanto con la smacchiatura dei Jaguari. Milano e la Lombardia sono il terreno su cui si gioca la partita più importante, per il peso di voti e per il valore simbolico. Vincere qui sarebbe come espugnare il Santiago Bernabeu, la fortezza di Berlusconi, della Lega e del Celeste Formigoni, e insieme la punta del disastro che ha alimentato l'anticasta e il grillismo, con gli scandali multicolore e la puzza d'indrangheta dentro Palazzo Pirelli. Noi tireremo fuori dal buio la Lombardia e l'Italia. E fra sette giorni un arcobaleno colorerà il bel cielo della Lombardia e il cielo dell'Italia. Bersani promette una lenzuolata di leggi contro la corruzione, politiche per il lavoro, lotta all'evasione fiscale, la porta di Palazzo Chigi aperta dal primo giorno alla Caritas, perché c'è tanta gente che non riesce a mangiare. Botte a Maroni, per un finlandese anche lui è un terrone. E a Grillo, come fa a parlare di Berlinguer in piazza Bologna e poi a stringere la mano a Casa Pound? Il cerimoniale è Pisa Pia, l'apripista del rinnovamento milanese. Sul palco ci sono anche tabacci. Perché da qui è nata la Lega, da qui è nato Berlusconi e da qui deve arrivare lo stop. E vendola garantito da Bersani nella foto di gruppo. In quel governo, in quella responsabilità di classe dirigente, io non sarò l'elemento di disturbo, ma sarò la garanzia della governabilità e della stabilità. L'unica condizione che io pongo, giustizia sociale. La conduttrice Maugeri prenota la piazza fra una settimana per l'ipotetica festa post voto. Il main sponsor Prodi ha già detto che dopo la comparsata di oggi tornerà al suo lavoro. Non sono tornato in campo, ritengo che ogni cittadino deve capire che domenica prossima si giochi il nostro futuro.